Antonella Elia parla a cuore aperto ieri sera nella puntata di live Nonella d'Urso da Barbara lei ospite con il fidanzato Pietro delle Piane racconta la sua storia con lui e dice di aver riflettuto uscita dalla casa del grande fratello dalle 7 del mattino fino alle 5 di sera poi hanno parlato in cucina per quasi 5 ore e da lì ha deciso vuole stare con Pietro l'ex concorrente del grande fratello racconta anche il suo passato difficile infatti dice spesso ho avuto vergogna di non avere più mia madre e la cosa si è accentuata ancora di più quando è morto anche mio padre mi sentivo sbagliata racconta Antonella in un mondo di persone diverse da me poi racconta un aneddoto del suo passato che ha fatto un po' discutere infatti dice ho sempre vissuto con vergogna e quando c'è stato il funerale di mio padre sono voluta andare a una festa e io ridevo come non fosse successo niente ovviamente dopo questa confessione un po' di shock da parte di Barbara D'Urso ma anche dei presenti che erano a casa a guardare la trasmissione c'è stata però questo è il modo di vivere il dolore magari di Antonella e quindi va rispettato per quanto riguarda poi il fidanzato pieno delle piane Pietro delle piane scusatemi Antonella nuovamente ribadisce di averlo perdonato e si ridice innamorata di lui e per quanto riguarda lo scoop che era avvenuto quando lei era nella casa della grande fratello con fiore e argento non vuole assolutamente parlarne quindi per lei è acqua passata sta vivendo un nuovo amore con Pietro e vive la quarantena proprio in casa con lui facendo le prime prove di convivenza e poi invece che cosa ne pensate di Antonella e Lia? Scrivetemelo nei commenti lasciatemi un pollice su di supporto e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video vi auguro una buona giornata un buon inizio settimana ragazzi da Angela da Tutto lo Web Grazie a tutti